Vi vogliamo chiedere dove lo vedete? Lo vedete a fine 2015 sotto i 20.000 punti oppure compreso in un range tra i 20.000 e i 22.000 punti oppure addirittura sopra i 22.000 punti? Iniziate pure a votare. Allora qui c'è positività, c'è positività in sala così come sullo spread, ne siamo in qualche modo felici. Il 52% di voi lo vede oltre i 22.000 punti, il 40% compreso tra i 20.000 e i 22.000 punti, quindi tutto sommato il 92% vede comunque un futuro positivo, solo l'8% lo vede sotto i 20.000 punti.